bene o male bene gente di youtube e bentornati a un nuovo episodio di Don't Starve bene si ricominceremo valla non è vero che ricominceremo ma ricontinueremo la nostra avventura dove eravamo rimasti e dove eravamo rimasti chi cazzo se lo ricordo è questo? proviamo eh amici amici no scherzo bene si è questo che culo? obiettivo 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 dunque innanzitutto ciòpiamo ah vi ricordo che è uscita una patch ecco è uscito un aggiornamento molto importante che ha portato delle modifiche e ha aggiunto un nuovo personaggio alla storia, e vai il ruttino ancora di coca, dunque allora pensavo, pensavo a come fare, carino maledetto, no, a cosa fare Piccadio, dunque un obiettivo che ci dobbiamo porre, ragazzi commentate, datemi un obiettivo, ho bisogno dei vostri commenti che mi sappiate dire che cosa possiamo fare, adesso che siamo arrivati ormai al giorno 6, che praticamente abbiamo due macchine della scelta che non servono una mazza, intanto lui Wilson è impazzito come potete vedere, oh dovrei fare una lancia, ma per fare una lancia, dai mettiamoci questo obiettivo, per fare una lancia, la macchina, non scherzo, non è la macchina, muro di fieno non me ne fotta una bega, è detta così, no, sapete cosa, che stavo pensando al fatto che intorno ai 15-20 giorni dovrebbero arrivarmi addosso quegli stupide bestiazze chiamate cinghiali, e non è bello, ragazzi, ok, zaino di maiale, allora io direi, direi che devo cercare la corda, e non posso stare qua ora per cercare una fatta corda, e adesso mi direte ma no, no, ma cosa stai facendo, ma no, ma sei inspegato, è lì, no, ma dove vai, aspetta i canati, ah eccolo qua, ragazzi, non c'è, ci vuole tempo, ci vuole tempo, ci vuole tempo, e tu vuole, e si equipaggia, signori, sta lancia qua, mi fa paura, ragazzi, mi fa veramente paura, mi faccio paura, sono inquietante, adesso parlo da solo, io, pensatoci, non saprei il perché sto facendo video su youtube, e anche perché so benissimo che non c'è nessuno che non sono mica tanto famoso, e non conosce nessuno, però a me piace, mi diverte, anche quelle due o tre persone che mi seguono mi rendono felice perché appunto il mio lavoro non viene sprecato, ecco, anche perché comunque ci giocarei lo stesso ai giochi, oh, tre pepite d'oro, ditevi se questa non è fortuna, mazza, 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 ben, se il c'è, no, bravo, vediamo un altro, avevo visto male o c'era uno stupido, ah, aspettate però un attimo, effettivamente potrei fare una cosa di questo tipo, wow, il cibo, ah, gli obiettivi ci sono, eh, pian pianino mi vengono in mente, però devo fare innanzitutto le mura, devo fare le mura perché, per creare un po' sicuro dove andare, giusto? Ecco, perfetto, eh, qui, tan tan tan, perfetto, vai, 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 ok, perfetto, devo cercare il cibo, bella miseria, cibo, no, mira agli occhi, mira agli occhi, qua, 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 cibo, eh, lo so, e che cavolo posso farci, bisogno di cibo, wow, wow, guardate qua, che figo, cappello da miniatore, guardate, e ditemi se non ho culo, ragazzi, meglio lui che me, e c'hai, non hai tutti i torti, mio caro, bacche, siamo salvi, bene, andiamo, proseguiamo, 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 devo fare il cibo, questo terreno maledetto, no, allora, guardiamo la mappa, ok, mi sto allontanando, la cosa non va bene, quindi meglio tornare indietro, se troviamo qualcosa da mangiare ben venga, altrimenti cacca, ehi, 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 cammina, 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 di qua, no ragazzi, sul serio, mi sto perdendo, no scherzo, dovremmo essere, eh, vacca di che spai, eh, no, che culo, di qua, eccolo, eccolo qua, perfetto, quindi le vigne, per accendere appunto il fuoco, e dobbiamo intanto creare queste, e creamole di sfusura, vi darà fastidio però, e dai, per fieto, adesso dobbiamo creare la struttura, che è, muri, usiamo ancora il chemico, devo imparare le chiappe, vai, 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 chiudo, non puoi portare altra roba, allora, io direi di fare così, no, chi ti ha detto di lasciare, lo mangia, 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 questo lo lasci qua, qua, c'è questa carota, c'è questa carota, perfetto, no, a devi costruire, qua, ok, io direi che per stanotte, ci siamo quasi, sì, ok, stanotte è passato, no, e va a cagare, vediamo, creiamo il muro, creiamo il muro, creiamo il muro, 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 eee, ecco, a dire che ho fatto due cazzate, no, eh, questo è un bel muro, eh, lo so, ok, facciamo così, può stare, e, esatto che ci sta, e poi lo amplieremo, ok, così dovremmo essere al sicuro, e direi che, boh, dopo questa tirata di, no, non posso spaccarlo, dopo questa tirata di culo, ci possiamo vedere al prossimo episodio di Stone Star, ho detto esci, io sono che non ci fai, se vedo, vera, meni.